A questo punto chiamo il video del prossimo relatore. Signore e signori, Andrea Buffoni. Buongiorno Rimini, buongiorno Web Marketing Festival. È emozionato Alessandro a parlare prima di Roberto Saviano, figuratevi per me che parlo dopo Roberto e dopo Alessandro. Non è semplicissimo, quindi per rompere il ghiaccio partiamo con un breve video di come sta innovando il marketing oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, nei prossimi 15 minuti parleremo proprio di questo, di come il marketing sta evolvendo. Sì perché di fatto lo vedete qua dietro di me ma siccome siete persone che lavorano nel marketing lo sapete meglio di me, i consumatori oggi sono sempre più esigenti e di fatto sono più esigenti perché sono connessi. I numeri ci dicono che abbiamo una media di almeno tre dispositivi connessi. se pensate a cellulare personale, cellulare aziendale, computer di casa, dell'ufficio, per l'alzata di mano quanti di voi hanno almeno tre o più dispositivi connessi? Direi che i numeri ci dicono la verità. la cosa impressionante è che entro la fine del 2020 questi dispositivi connessi saranno dieci. Pensiamo agli smartwatch, pensiamo agli automobili, pensiamo agli elettrodomestici e ai dispositivi nuovi come i voice assistant, Alexa, Google Home. Di questo addirittura il dato che mi ha impressionato è che si stima che l'anno prossimo ci saranno sette miliardi di voice assistant. Cosa fanno tutti questi oggetti connessi? Danno tantissimo potere ai consumatori, ai clienti, perché in ogni momento sono connessi, possono scambiarsi opinioni, recuperare informazioni sui prodotti, sui prezzi e quant'altro, ma se utilizzati bene danno anche molto potere ai brand che parlano con questi consumatori finali. Ed è per questo che Salesforce ha fatto un'indagine che facciamo periodicamente, si chiama State of Marketing Report, potete scaricarla al nostro stand qui fuori o comunque dal sito web alla versione completa, ed è una ricerca che è stata fatta coinvolgendo più di 4.000 operatori professionisti dell'ambito marketing in oltre 20 paesi e soprattutto, cosa importante, in ogni industria. Dal finance, al retail, all'automotive, al no profit, questo perché la customer experience oggi prescinde da quale sia l'industria in cui lavoriamo. Spesso si tende a pensare solo al mondo del retail, all'acquisto di prodotti, ma in realtà non è così. Che cosa è emerso da questa ricerca? Oggi toccheremo velocemente questi 5 punti. Il nuovo è quello del marketing, che sempre di più si vede al centro dell'orchestrazione di tutti i punti di contatto che i brand hanno con i propri consumatori. L'importanza dei dati in fare questo, quindi raccogliere i dati e utilizzarli al meglio. Tutti i temi legati all'intelligenza artificiale. Tantissimi clienti, tantissimi dati, come faccio a mettere foto al comune e trarne delle informazioni importanti, anche nel rispetto della privacy. La parte di interazione, non solo più multicanale e omnicanale, ma anche in real time, e alla fine l'esigenza di monitorare tutto per capire se effettivamente quello che stiamo facendo funziona oppure no. Ma andiamo per ordine. Abbiamo diviso in questa ricerca i marketing in tre fasce. Quelli con alte performance, quelli con performance media e performance basse. La prima cosa che ci ha colpito è che l'80% dei consumatori dice che l'esperienza con un brand, oggi, è importante tanto quanto, se non di più, del prodotto stesso che viene venduto. Ormai la competizione su scala globale fa sì che gli stessi prodotti possano essere proposti da diversi brand. In quest'ottica, il marketing, qual è il nuovo ruolo in cui i team ad alte performance sono già entrati e già stanno facendo queste attività? Quello di proprio orchestrare tutte le interazioni che io ho con il mio cliente finale, non solo quelle di puro marketing, email marketing, web, digitali, ma orchestrare tutti i team interno all'azienda, affinché l'esperienza del cliente finale sia quanto più pertinente, rilevante e interessante per l'utente. Questo ovviamente non può succedere se il team di marketing non collabora strettamente con tutti gli altri dipartimenti aziendali, dipartimenti che tipicamente fino a poco tempo fa erano dei silos, ognuno faceva il suo compito fatto molto bene, ma era difficile farli parlare assieme. Ed ecco come il marketing oggi, i rispondenti da Sarvi ci dicono che il 50% di loro collabora a braccetto con il mondo dell'e-commerce perché il marketing poi porta le vendite online, porta le vendite e il traffico anche nei punti vendita e l'accessibilità ai servizi, anche con la forza vendite questa collaborazione sta aumentando, come il marketing può aumentare l'efficacia dei commerciali fornendo loro dei lead qualificati, ma soprattutto la cosa più importante è che il 53% dei rispondenti ci dice che il rapporto stretto avviene col customer care. Siamo abituati a vedere il customer care come un canale di puro inbound, quando il cliente ha un problema mi chiama, ma in realtà questo oggi non lo è più. Se io alimento il customer care con tutte le informazioni che mi arrivano dall'esperienza in negozio, dalla navigazione sui social, piuttosto che io quello che faccio sul mio sito web, ecco che queste persone oltre a risolvere problemi ai clienti che li chiamano, in perfetto stile Amazon, magari propongono già il prossimo acquisto, propongono già il prossimo prodotto, il prossimo contenuto interessante per queste persone e quindi la collaborazione diventa fondamentale affinché il marketing possa orchestrare ogni punto di contatto. Per fare questo ovviamente ci servono i dati e anche qui cosa è emerso da questa ricerca? Che negli ultimi due anni sono aumentate del 50% le fonti dati da cui i brand possono attingere. Non è semplice, parliamo di fonti dati più risparate, parliamo degli ERP, dei sistemi di CRM, del sito web, della mobile app, dell'impression, sull'advertising, dei click, dell'email, sono dati che arrivano da tutte le parti. Mettere a fattore comune e usarli in maniera intelligente non è semplice. Tant'è vero che come vedete in questa classifica, ancora ad oggi c'è abbastanza confusione e eterogenità nel qual è il software, la piattaforma, l'applicazione in cui vado a mettere insieme tutti questi dati. Si passa da generici marketing database a ovviamente la parte di CRM che nasce per quello, tecnologie più moderne come CDP, customer data platform o DMP, fino a spesso e volentieri prodotti costruiti internamente, e quindi prodotti sviluppati in casa. Anche qui c'è bisogno di fare un po' di chiarezza e ridefinire i ruoli. Se pensiamo alle DMP, le data management platform, chi di voi si muove e opera nel mondo dell'advertising sa che sono nate con questo obiettivo, quindi di fare tutto il lavoro di media optimization, di media buying, per gestire meglio le campagne di advertising. L'altro fattore interessante che è uscito da questa ricerca è che non è più questo il ruolo che gli addetti di marketing si aspettano dalla DMP. Quindi non più solo attività legate al media, ma attività tutto tondo in cui mi aspetto che la DMP che mi colleziona i dati di prime, seconde e terze parti diventi lo strumento dove io vado a conoscere meglio le mie audience, dove possa tranne degli insight che prima non riuscivo magari ad intercettare, fare nuovi segmenti e scoprire magari delle nuove audience a cui non avevo pensato prima. Quindi anche la tecnologia alla luce di tutti i dati che stanno generando, che i nostri clienti generano, ecco che sta assumendo nuove formi e nuovi ruoli. Abbiamo parlato di orchestrazione a tutto tondo del marketing, abbiamo parlato di dati, sicuramente quando io ho queste informazioni oggi non posso più prescindere da sistemi di intelligenza artificiale che mi aiutano a scalare quello che un essere umano banalmente non potrebbe fare, quindi creare correlazioni e offrire esperienze altamente personalizzate ai propri clienti. Il 44% degli intervistati negli ultimi anni dichiara di aver adottato una tecnologia di intelligenza artificiale. L'altro tema legato all'intelligenza artificiale è la personalizzazione e la privacy. Ovviamente i sistemi di intelligenza artificiale, come saprete, funzionano tanto meglio quanto più sono i dati a cui io gli do in pasto, con cui li alimento, però questi dati bisogna anche riuscire a farsi dare dai clienti, dai consumatori sempre più consapevoli. Il GDPR ha cambiato le carte in tavola, secondo noi comunque in meglio, i consumatori sono sempre più consapevoli, quindi prima di dare i dati o darne tanti vogliono acquisire fiducia rispetto al brand con cui stanno parlando. Ed ecco che questo è il terzo tema caro ai rispondenti della nostra survey, quindi come faccio a bilanciare il rapporto delicato tra la privacy, l'utilizzo dei dati che i clienti mi lasciano e la personalizzazione che gli strumenti di intelligenza artificiale riescono a fornire. Quando parliamo di applicazione di intelligenza artificiale, qualche esempio lo conoscete anche voi, ma l'intelligenza artificiale di fatto può essere applicata a qualsiasi interazione, al contenuto che vado a mettere in un'email, al momento in cui invio un sms, una push notification, al suggerimento a un customer care di qual è la migliore risposta che posso dare a quel cliente che ci ha chiamato perché ha avuto un problema. Se pensiamo al mondo social, l'intelligenza artificiale è nel riconoscimento delle immagini, i vari Instagram, i vari Pinterest, quindi al di là del testo capire cosa mi sta dicendo un'immagine che è un'utente pubblica, piuttosto che tutta la parte di sentiment analysis. L'intelligenza artificiale veramente è ormai trasversale e quindi verrà sempre di più adottata e la previsione è di un aumento del 250% da qui ai prossimi due anni. Il quarto pillar che è emerso da questa ricerca è il coinvolgimento, che non solo deve essere omnicanale, se ne parla da anni, adesso stiamo arrivando finalmente ad aver messo insieme tutti i canali di contatto che la mia azienda ha con il consumatore finale, però la sfida adesso è il real time. Quando un utente passa davanti a un negozio, scarica una mobile app, compra a casa, attiva un mutuo, mette il banco, mette dentro lo sportello automatico, io ho tantissime come brand occasioni, a seconda appunto di ciascune industrie, per fare engagement real time, per fare che cosa? per offrire contenuti rilevanti e pertinenti al momento giusto e sul canale giusto e al cliente corretto, in modo tale che ciascuno di loro, come diceva prima Roberto, si senta coccolato da quel brand, si senta trattato come un individuo. Ad oggi solo il 28% dei professionisti di marketing che abbiamo intervistato si ritiene soddisfatto delle proprie capacità di fare engagement a un canale e in real time. Chiudiamo alla fine con l'ultimo punto, non meno importante, che è quello della misurazione. Ci sono tantissime possibilità oggi per fare attività di marketing, nuove, come abbiamo detto fino ad oggi. quello che è importante fare è misurarle per capire se sto facendo bene, se posso fare meglio, dove posso fare meglio. Tutte queste informazioni che oggi abbiamo, che oggi collezioniamo, hanno aperto la frontiera a nuove metriche. Tutti voi avete misurato sicuramente il ritorno sull'investimento, che è sempre stato e è ancora una delle metriche principali, quindi la crescita del revenue, del fatturato, l'efficienza dei commerciali. Quello che i team più performanti di marketing ci dicono è che c'è una metrica che sta diventando predominante al di là del fatturato, al di là degli engagement web e delle attività che si misurano tradizionalmente, che è molto importante, che è proprio quello della customer satisfaction a tutto tondo. Quindi i team più performanti sono molto più predisposti, molto più avanti nel fare misurazioni puntuali di quanto il cliente sia soddisfatto, indipendentemente da quello che compra, perché lo vedono come un di cui, se il cliente è contento, l'esperienza che vive è positiva, sicuramente tornerà e sarà fedele al brand. Questi cinque pillar che abbiamo visto, abbiamo scorso velocemente, sono poi al centro del mantra anche di Salesforce come azienda che ha la missione di aiutare i nostri clienti nel migliorare le relazioni con i clienti finali. E quindi parliamo di conoscere il cliente, indipendentemente che si è andati di prima, seconda e terza parte, di personalizzare in maniera specifica il messaggio rispetto a quello che sapete di lui, che lui vi ha detto, rispetto a quello che desumete delle relazioni che lui compie e poi alla fine la possibilità di fare engagement, quindi di coinvolgerli in relazioni che non siano più solamente dove i brand parlano al consumatore finale, ma che siano interazioni bidirezionali dove anche gli utenti ci dicono la loro e noi usiamo quelle informazioni per migliorare sempre di più questa esperienza. Come vi dicevo prima, per scaricare la versione integrale del report, che è molto lunga e molto esaustiva, potete farlo allo stand qua da noi. Se volete domani pomeriggio saremo nella sala Tempio 1 con una serie di workshop per approfondire tutte queste tematiche e raccontarvi meglio cosa fa Salesforce. Andrea Puffoni. Grazie mille Andrea. Salesforce ha anche una sala formativa curata direttamente da loro. Vi avevo chiesto di attendere un attimo, tanto le sale formative non partono se noi non chiudiamo questa sessione. Ora capirete perché, vi darò le indicazioni, però volevo chiederti velocemente una cosa, visto che abbiamo parlato questa mattina di innovazione sociale e anche di responsabilità sociale, so che Salesforce ha in piedi un po' di attività. Ci puoi dire velocissimamente qualcosa? Assolutamente sì, grazie della domanda. Ho la fortuna per lavorare per un'azienda con un fondatore illuminato che vent'anni fa si era immaginato che un'azienda, un CRM potesse stare nel cloud, che però fin da subito ha detto al suo socio, se questa azienda avrà successo dobbiamo fare il nostro contributo. Immaginatevi una realtà americana dove non c'è il welfare che c'è da noi. Mark Benioff ha fondato questo modello filantropico, si chiama 1-1-1, 1-1-1, l'1% dell'equity dell'azienda viene donato in beneficenza, così come l'1% dei prodotti e cosa più importante è l'1% dei tempi dei propri dipendenti. Noi siamo quasi 40 mila nel mondo, ognuno di noi ha 7 giorni pagati lavorativi all'anno per fare beneficenza. Questa secondo me è una cosa importante, il messaggio che voglio lasciare è che sicuramente è bello avere questi sponsor come Roberto, come Alessandro che parlano a grandi platea di queste cose qui, ma non sottovalutate quello che potete fare voi. L'1% della vostra giornata sono 14 minuti, 7 se togliamo il sonno, non sono niente. Se voi pensate che un dipendente salesforce di 40 mila faccia almeno un giorno di volontariato all'anno, sono 40 mila giorni, sono circa 109 anni di volontariato, quindi quello che potete fare voi anche in piccolissima parte è tantissimo. Il nostro fondatore dice che il business of business is improving the state of the world. Le aziende, quello che diceva prima Roberto, le aziende non fanno business solo per fare soldi ma per cercare di migliorare il mondo. Perfetto, grazie mille Andrea, grazie tante. Grazie.